Oggi si terrà un momento una manifestazione qui all'interno del comando per ricordare i vigili del fuoco che sono morti e questo è un segnale anche per dire quella che è la situazione, no? Cioè sono sempre intrincei i vigili del fuoco, perdono la vita ma forse ci vorrebbe maggiore attenzione anche da parte del governo verso questa forza. Sì, oggi si svolgono i funerali ad Alessandria dei colleghi deceduti nelle esplosioni di Alessandria e oggi ad Alessandria e domani a Reggio Calabria per il collega originario di Reggio. E sì, come comando, come tutti i comandi d'Italia sono stati fatti dei momenti di ricordo, di commemorazione nei giorni scorsi e anche oggi faremo un momento di ricordo di questi colleghi. Questo è stato anche un momento in cui si è evidenziato che i vigili del fuoco fanno un lavoro comunque rischioso. Noi come vigili del fuoco cerchiamo sempre di essere preparati, facciamo i corsi di formazione, facciamo gli addestramenti come comando, come squadra. Purtroppo però ci sono delle situazioni in cui ci veniamo a trovare, in cui anche la squadra più organizzata purtroppo non può fare nulla e purtroppo quello che è successo da Alessandria è un caso di questo genere. Cioè un evento che va al di là delle previsioni e quindi purtroppo è successa questa tragedia. A livello governativo ci sono le intenzioni di migliorare gli inquadramenti dei vigili del fuoco. La problematica è chiaramente come sempre quella delle risorse disponibili, però si vedrà nei prossimi mesi cosa si riuscirà a fare a livello governativo. A livello governativo ci sono le intenzioni di migliorare gli inquadramenti di migliorare gli inquadramenti.